E' tempo di esami, appena archiviata la prima prova di maturità, oggi i maturandi si cimentano sulla seconda, che cambia a seconda degli indirizzi, ma nel frattempo aspettano la pausa del fine settimana prima di tornare lunedì tra i banchi di scuola per la terza prova, quella del quizone. Quest'anno il ministro Giannini ha voluto giocare all'indizio, per la prima volta ha detto se fosse un colore sarebbe verde e in effetti nella prova di italiano che si è svolta ieri vi era una traccia sul paesaggio. Per la seconda prova invece, quella di oggi, ha lanciato il colore bianco, per Giannini segno di purezza. Alle prese con la versione del greco i diplomandi dei licei classici, con quella di matematica gli studenti dei licei scientifici, nei linguistici invece la prova riguarda la lingua straniera, che anche quest'anno il ministero ha deciso che sarà quella che nella scuola è stata più studiata. Mentre diritto ed economia metteranno alla prova chi è tra i banchi dei licei delle scienze umane a indirizzo economico sociale. Per questa seconda prova il livello di complessità è molto alto, anche perché il ministero predispone la prova tenendo conto di tutto il programma, ma difficilmente gli insegnanti riescono a svolgerlo interamente durante l'anno. Quindi studenti e studentesse si trovano ad affrontare tracce che vanno oltre le proprie conoscenze culturali. Dopo decenni di inciuci e malaffare, il Movimento 5 Stelle ha introdotto nel vocabolario della politica parole come condivisione, partecipazione, trasparenza. Nessuno prima di noi aveva riconosciuto ai cittadini, a tutti i cittadini, un ruolo dirimente nelle scelte politiche, in quelle di indirizzo e di governo. I nostri candidati a livello europeo, nazionale, regionale e locale da sempre sono espressione delle valutazioni e delle preferenze dei cittadini, dichiarano i pentastellati salentini Daniela Donno, Barbara Lezzi, Maurizio Buccarella e Diego De Lorenzis per fare chiarezza sulle prossime amministrative del Comune di Lecce. Con una nota congiunta la delegazione parlamentare salentina è intervenuta sul Totonomi, che si è scatenato con la pubblicazione sulla Gazzetta del Mezzogiorno di un articolo che indica in Caterina Vitiello una possibile candidata. All'articolo la stessa interessata ha risposto con garbo, rinviando ogni decisione in tal senso al processo partecipativo dal basso che il Movimento metterà in atto anche a Lecce. Per i portavoce pentastellati si tratta di un cammino informato e partecipato che inizia nei meetup e che è fatto prima di tutto di idee e sviluppo di proposte. Le prossime amministrative a Lecce perciò non faranno eccezione. Noi portavoce insieme agli attivisti vigileremo affinché questi principi non vengano traditi. Siamo estranei e prendiamo le distanze da qualsiasi gioco di incastri, dai calcoli di strategie e dalle allusioni davvero poco velate sui nomi dei possibili candidati del Movimento 5 Stelle che stanno circolando in maniera incontrollata in questi giorni nei canali di informazione leccesi. Al momento perciò non c'è proprio nessun nome che invece, ripetiamo, arriverà a tempo debito e sarà frutto di un percorso condiviso come da regolamento. Il Totopoltrona, lasciamolo fare a chi non ha uno straccio di programma o tenta di saltare in groppa al cavallo vincente ed in cerca di un posto al sole. Su ognuno di noi pesa l'importante e imprescindibile ruolo di garanti del rispetto delle regole. Quelle del Movimento sono poche, chiare e di immediata comprensione. Una buona idea porta con sé il volto delle persone che ci hanno lavorato sopra, che l'hanno difesa, che hanno sfidato gli ostacoli e le avversità per promuoverla. E ora più che mai la nostra idea di buona amministrazione non ha una sola faccia, ma ne ha milioni. Quelle dei cittadini che ci hanno dato fiducia e che continuano giorno dopo giorno a rinnovarla con proposte, pareri e suggerimenti. Condanne pesanti sono state inflitte ieri nel processo di primo grado sulle aste giudiziarie pilotate, nato dall'inchiesta Operazione Canasta, che ha coinvolto imprenditori, politici e professionisti accusati a vario titolo di estorsione, turbativa d'asta, abuso d'ufficio, peculato, corruzione, falsità materiale e ideologica. 56 gli anni di reclusione complessivi per 15 imputati. 9 anni e 6 mesi la condanna inflitta dai giudici a Giancarlo Carrino di Nardò. 3 anni per Carmelo Tornese e Rossana Tornese, entrambi leccesi. 6 anni e 2 mesi per Ferruccio Piscopiello di Melissano. 9 anni per Luigi Dell'Anna di Nardò. 6 anni e 2 mesi per Francesco Russo. 6 anni per Gregorio Mellone di Nardò. 3 anni e 6 mesi per Pantaleo Colazzo di Galatina. 2 anni per Elio Dell'Anna di Monteroni e Maria Luciana Schito di Muroleccese. 1 anno e 6 mesi per Luigi Sparapane di Galatina, Francesco De Girolamo di Sava e Rosario Bizzarro di Nardò. 1 anno e 2 mesi per Biagio Terragno di Galatone. 1 anno per Marco Palmieri di Lecce. Assoluzione piena, perché il fatto non sussiste, per Fabio Corvino di Lizzanello, Enzo Benvenga di Gallipoli e Sandro Quintana, anche lui di Gallipoli. Si è ritenuto di non dover procedere per intervenuta prescrizione tra altri 11 imputati. L'inchiesta, condotta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce, ha messo in luce gli interessi del malaffare e della criminalità organizzata nel mondo delle aste giudiziarie per i beni immobiliari e immobiliari dislocati nel territorio salentino. Un sistema fatto non solo di aste pilotate e truccate con la copertura di professionisti al di sopra di ogni sospetto, ma anche di connivenze e relazioni tra uomini d'affari e pubblici ufficiali. Sullo sfondo due dei clan storici della Sacra Corona Unita Salentina, quello dei Padovano di Gallipoli e dei Coluccia di Galatina, che avevano incentrato i loro interessi economici proprio sulle aste giudiziarie. Due le figure principali al centro dell'inchiesta, quella di Giancarlo Carrino, 49enne faccendiere originario di Nardò, e quella di Carmelo Tornese, 64 anni, direttore dell'Istituto Vendite Giudiziarie, gestito da una società facente capo ai figli. Il primo avrebbe gestito il redditizio mondo delle esecuzioni immobiliari, mentre Tornese avrebbe avuto un ruolo di factotum, preposto alle aste giudiziarie come funzionario pubblico, seguendo una sorta di prassi consolidata di disturbo sulla regolarità dello svolgimento, sfalsando così il gioco della concorrenza. Sarebbe stato invece Giancarlo Carrino, come evidenziato dalle numerose intercettazioni telefoniche, a gestire in prima persona i rapporti con Salvatore Padovano, alias Nino Bomba, e il fratello Rosario Padovano. Ennesimo episodio di furto presso il negozio di abbigliamento Zara di Lecce. Ieri sera intorno alle 19 una volante della polizia è intervenuta presso la boutique di Via Trinchiese, dove era stato segnalato un furto. Il personale addetto all'assistenza clienti aveva poco prima fermato una signora, dopo che era entrato in funzione dall'arme antitacchieggio. I poliziotti hanno quindi identificato la donna, che nel frattempo stava tentando di scappare, con la borsa piena di capi di abbigliamento ancora muniti di placchi antitacchieggio e di cartellino con il prezzo. Si tratta di Daniela Leucci Rosafio, 42 anni, brindisina, già nota per simili episodi di furto. Per la ladra recidiva sono quindi scattati gli arresti domiciliari. Il dato che emerge dal rapporto dell'Osservatorio Nazionale Screening del 2015 è allarmante e pone ancora una volta in evidenza anche sul tema salute il divario tra nord e sud. In Emilia-Romagna, dove gli screening mammari sono stati avviati fin dal 1996. Nel 2008 la percentuale di adesione all'invito è risultata superiore al 70%, con il 72% dei tumori diagnosticati in fase iniziale e con una riduzione del tasso di mortalità atteso del 56%. In Puglia, invece, regione con una popolazione di oltre 2 milioni di donne, sono state invitate a partecipare allo screening 246 mila donne su 507 mila aventi diritto e solo 131 mila hanno aderito all'invito. Questi i dati che emergono dal rapporto, ma la situazione è addirittura peggiore nei distretti Asla di Lecce, con inviti rivolti a 3.700 persone su una popolazione target di 13 mila donne, lo afferma in una nota Adriana Polibortone di Forza Italia. Questi dati, aggiunge la Poli, ci pongono davanti ad una seria e importante riflessione da condividere all'unisono per la salute delle donne della nostra terra, perché meno screening equivalgono a più morte non dovute. Per questo rivolgo un appello alla Regione, alle Asle e a tutti i sindaci al fine di porre in essere tutte le azioni necessarie per sensibilizzare su questa problematica che è di carattere sociale, perché la donna è il nucleo fondante della famiglia. Sarebbe opportuno capire, anche se la realtà oggi è migliore di quella emersa sino al 2012 o meno. Per quanto ci riguarda, conclude la Polibortone, saremo accanto in prima linea in questa battaglia di civiltà insieme al professor Massimo Federico, originario del Salento, ordinario di Oncologia dell'Università di Modena e Reggio Emilia, illustre ricercatore della nostra terra, conosciuto anche in ambito internazionale. Si chiama Everyone is Feelings, il nuovo singolo dell'estate realizzato da Gabriele Papadia, in collaborazione con Tello DJ. Un brano dance già entrato in alta rotazione nei più importanti network radiofonici. Con etichetta Keep Record, l'EP contiene anche altre due versioni, una Tropical Mix e un remix by Danilo Seclì. Si tratta di un interessante progetto discografico che nasce dall'incontro di Gabriele Papadia, cantautore originario di Nardò e Donatello Vergaro, DJ producer di Galatina, entrambi accomunati dalla passione per la musica. Parliamo di musica, ospiti nei nostri studi, Tello e Gab, ovvero Donatello Vergaro e Gabriele Papadia. Parliamo dunque di questo nuovo progetto musicale. Come è avvenuto questa fusione di stili? Noi siamo in realtà innanzitutto compagni universitari e vecchi amici. Io scrivo e lui produce come DJ e allora abbiamo deciso già da tempo di fare qualcosa insieme, volevamo produrre qualcosa di nostro insieme. In realtà ho scritto questo brano un paio di anni fa ma non riuscivo a dargli la giusta carica per il genere. E così mi sono rivolto al maestro della produzione di Jameson, il mio amico, ed è venuta fuori questa collaborazione molto intensa diciamo. Per quanto riguarda questo brano anche io comunque ho fatto qualcosa di nuovo in quanto per la prima volta ho sperimentato, sempre rimanendo nel genere house, comunque un sottogenere che è quello del tropical che non avevo ancora sperimentato fino ad ora. È un genere un po' più radiofonico che sta andando molto in radio negli ultimi anni e quindi anche per me diciamo c'è stato qualcosa di nuovo sperimentando appunto la tropical house che è venuto fuori questo brano insomma. Un sound accattivante, un brano che prende, fa ballare insomma. Sì, per me è un'esperienza tutta nuova, io per chi mi conosce sai sono uno molto melodico, soft, romantico, ma in questo caso grazie a te lo sono riuscito a tirare fuori anche il mio lato più frizzante se vogliamo chiamarlo così ed è venuto fuori questo brano dal sound diciamo molto estivo. Il Lecce si muove in anticipo in attesa dell'apertura ufficiale del calciomercato. Sarebbero principalmente tre i nomi sul taccuino del neodirettore sportivo del Lecce Mauro Meluso. Il primo nome sarebbe quello di Simone Ciancio. Il difensore del Cosenza avrebbe già avuto contatti con la dirigenza leccese e un'esperienza nel Salento sarebbe per lui particolarmente allettante. Simone Ciancio è un giocatore che ama spingere molto sulla fascia e prima di approdare al Cosenza ha trascorso tre stagioni in Serie B col Cittadella, dopodiché l'esperienza alla Juve Stabia. Altro nome è quello di Luca Fiordilino, centrocampista classe 96, in forza sempre al Cosenza nell'ultima stagione. Sembra quasi fatta per Arrigoni, mediano dalle caratteristiche superiori alla categoria di Lega Pro. Il classico playmaker che rientrerebbe a pieno nei propositi di mister Padalino. Se questi tre acquisti dovessero andare in porto, per il Lecce sarebbe davvero un trix perfetto composto da un mix di esperienza, gioventù e freschezza. Diversi calciatori giallorossi sarebbero in scadenza di contratto, tra questi Alcibiade, Beduschi, Legittimo e Liviero. E invece Lepore, Camisa e Cosenza rappresentano la base da cui ripartire per la nuova stagione. A questi bisogna aggiungere Lobù e Freddi al momento alle prese con infortuni. Ancora incerto il futuro di Moscardelli. Resterei volentieri a Lecce, questa è la mia priorità, dice il bomber giallorosso. Ho avuto qualche contatto, ma non con i dirigenti salentini. Nei prossimi giorni capirò se faccio parte dei piani del club per la prossima stagione. Moscardelli non nasconde i rimpianti e la delusione per la mancata promozione in Serie B. Dopo il successo ottenuto a Cosenza pensavamo probabilmente che ci saremmo giocati il salto in B nello scontro diretto con i sanniti alla penultima giornata. Lo stop interno rimediato contro il Matera invece ha determinato in tutti noi un contraccolpo psicologico negativo che ha fatto pesare maggiormente il dispendio di energie psicofisiche, sopportato per effettuare la rincorsa alle primissime posizioni. Grazie a tutti.